tanto è deficiente vedi che ti convidano sta gente l'esemplare è stato liberato se me lo passi gli togliamo i pezzetti di rete in modo che possa volare nuovamente ecco qua l'uccello è pronto quasi per volare c'è un altro pezzettino di rete qua vicino all'ala questa è una rete anti bracconaggio il no al corpo forestale ho trovato una rete ho preso il bracconiere il componente del no del corpo forestale che si appresta eccolo ho tolto il pettirosso dalla rete liberiamo l'animale perfetto l'animale si è liberato andiamo ad un altro componente della pattuglia con altri animali vedete questa rete quanto animali ha catturato esemplare di pettirosso in alto altri esemplari altri uccelli all'interno della rete aspetta andiamo verso lì che c'è il cane qua non vorrei fare il voletto allora lo liberiamo uno dei si lo liberiamo perché è un marlo che ha preso proprio ieri quindi è di passo e mi pizzica pure onde evitare vado? vai è di nuovo libero